L'esercizio del distacco, di Mary B. Tolusso, pubblicato da Bollati Boringhieri. Un collegio fuori dal tempo e tre ragazzi che si amano. Una scrittura densa di poesia, che mette in scena il più struggente dei desideri umani, un amore eterno. Quando mia madre mi abbandonò davanti al portone del collegio, avevo 14 anni. Prima di rimettere in moto la macchina, mi aveva accarezzato i capelli. «Sì, sono biondi e troppo lunghi. Dovresti tagliarli», aveva detto. Io avrei voluto tagliare le sue mani per portarle via con me. Non ero entrata subito. Prima di suonare il campanello avevo tentato di staccare una gomma dal marciapiede. Scollavo con la punta della scarpa quel residuo a terra. Guardavo in basso, per non vedere la sua auto scomparire in mezzo al traffico. Nel grande atrio ci sono fotografie di ex alunni e il ritratto di un giovane eroe del risorgimento, proprio di fronte alle grandi finestre che si aprivano sul giardino. Una penisola verde dove consumavamo le nostre ore di libertà. Quando passeggiavamo nel parco fantasticavamo spesso sulla nostra fine, che avrebbe potuto essere simile a quella di un eroe. In collegio non si poteva fare a meno di passeggiare, anche perché agli insegnanti non piaceva che gli studenti si incontrassero nelle rispettive camere. Io, Emma e David camminavamo a lungo. Ci piaceva attraversare tutto il sentiero dei lecci, ogni anno mutilati da un'orrenda potatura, così che non riuscivano mai a toccarsi, a formare un'ombrosa galleria. Non abbiamo mai associato al nostro sentiero la parola lussureggiante. E di certo lì non poteva accadere nulla di fosco. Un trionfo di rami e tronchi amputati. Con una certa ironia lo chiamavamo plaz. Non è un sentiero, è una plaz, diceva David con quel mezzo sorriso che sapeva fare lui. I suoi denti erano bianchissimi. È proprio una piazza, ripeteva. I rami mutilati non potevano nasconderci. Avete ascoltato un brano tratto dal libro L'esercizio del distacco di Mary B. Tolusso Pubblicato da Bollati Boringhieri